A questo lato si stanno riscaldando i ragazzi della Giovenire Chiedi, sotto la visione del loro mister. Qua ci sono i ragazzi che partiranno dalla panchina, c'è il portiere. Qua c'è la prima squadra che si allena, i suoi gradoni, c'è il mister, là in fondo c'è i nostri, con la divisa classica giallorossa, il blocco degli undici. Qua c'è il portiere titolare e qua c'è anche i ragazzi che partiranno dalla panchina, ma alla fine giocheranno tutti.